Magic Trap Pad di Apple, è veramente un accessorio utile per montare i video con il nostro Mac? Ne parliamo in questo video. Innanzitutto rispondiamo a una delle domande che in molti si fanno, ovvero ma che differenza c'è tra la lavagnetta bianca e quella grigia siderale? Forse il peso? Il touch? O la grandezza della lavagnetta? No, semplicemente il colore, cosa che a mio parere non giustifica la differenza di prezzo. Sì, magari grigio siderale può sembrare più professionale o se hai dei dispositivi Apple di colore grigio siderale sicuramente si abbineranno meglio ma onestamente questa è semplicemente una questione estetica quindi a livello di utilizzo una vale l'altra. Perché l'ho ordinata? Perché ero curioso di vedere come rispondeva in fase di montaggio video e soprattutto perché volevo compararla con il Magic Mouse che ormai utilizzo da anni. Avendola provata per circa un mese posso dirti che sì, è uno strumento veramente valido ma forse non è indirizzata a quella categoria di persone, professionisti e non che hanno l'esigenza di montare i propri video con il Mac o con iPad. In tantissime situazioni, specialmente quando mi ritrovavo a fare lavori di precisione come il taglio di una clip oppure l'accoppiamento di una traccia audio a una pista video ho ritenuto opportuno di sconnettere la lavagnetta e ricollegare il Magic Mouse proprio per un discorso di precisione. Questo non vuol dire che non sia valido al 100% è compatibile con l'iPad sia Air che Pro oltre che con il Mac e già questo è un valore aggiunto. Puoi utilizzare ovviamente la lavagnetta di Apple per montare i video. È anche facile da configurare perché basta spingere il pulsantino l'interruttore che si trova dietro la lavagnetta ed abbinarlo al dispositivo con il quale intendi utilizzarlo tramite Bluetooth. Solo che è giusto che tu sappia che ci metterai e ci impiegherai molto più tempo per i lavori di precisione rispetto a un Magic Mouse che anch'esso è compatibile sia con iPad che con Mac. Sono tutte valutazioni che ti consiglio di fare prima di acquistare visto comunque il prezzo dell'accessorio. Quindi ricapitolando, Magic Trappad è un accessorio utile per montare video con Mac? Utile sì, ma sicuramente non il più comodo. Per quanto sia un accessorio carino, sicuramente per montare non è la soluzione più comoda. Se avessi l'esigenza di scrollare, di visionare molte pagine, di passare da una pagina all'altra del web, allora avrebbe senso. Ma se il tuo scopo è quello di montare video, ecco può essere un accessorio complementare ma sicuramente non primario perché tra i due io personalmente sceglierei sempre e comunque prima il Magic Mouse per una questione di tempo e di precisione. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Se ti è piaciuto ricordati di mettere un like, iscriverti al canale, attivare la campanellina e se hai dei dubbi o delle perplessità sull'argomento, scrivimelo nei commenti. Creerò un video di risposta alla tua domanda. A presto! Grazie!